L'ingresso del signore. Eccolo qua. Come stai? Volevo venire nudo, ma... Non so che andrò, potremmo non farci. C'è caldo oggi, ragazzi? Sì, è facile. Sì, è facile. Alcune, non d'alba. Ho provato il gese, sono diviato l'alba, come te a prendere la mano. Perché è troppo l'inizio. Poi, va gente, non viene inizio. A bamboni, sì. 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 Ciao. 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 Complimenti all'artista Grazie Grazie a te